Siamo con Eugenio Minasso, finale un po' nervoso, ma sei contento di questo pareggio? Sì, sono contento perché il pareggio è un risultato che a sesto rilevante, con una squadra come questa ci sta tutto. Sono un po' così dispiaciuto perché indubbiamente l'Imperia ha giocato una grandissima partita e probabilmente meritavamo di più. Meritavamo di più, loro hanno fatto un tiro di testa, un bellissimo gol, ma hanno fatto in verità un colpo di testa, tutto il resto è stato Imperia. Quindi direi che le due squadre sono due squadre forti, meriterebbero tutte e due di salire in Serie D, però noi ci auguriamo che se continuiamo a giocare così noi e continuano a giocare così loro, probabilmente abbiamo delle buone speranze. Forse si poteva vincere questa partita però? No, questa partita qui a un certo punto si doveva vincere perché la squadra è stata superiore, è inutile. Chi l'ha vista la partita può giudicare, però il calcio è questo. Grazie. Grazie a voi.